Per prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Domani 29 dicembre saranno passati dieci anni esatti dal quel maledetto giorno sulle nevi di Maribel, quando Michael Schumacher cadde mentre sciava fuori pista. Sfortuna volle che in quel frangente il leggendario pilota tedesco sbattesse la testa contro una roccia riportando un grave trauma cranico nonostante portasse il casco. Da lì la sua vita sarebbe cambiata per sempre. Seguirono il coma, i due interventi alla testa, il ricovero in una clinica svizzera e poi il ritorno a casa, in un limbo senza più spazio e tempo che dura da allora. La Build oggi rivela che, come parte della riabilitazione, Schumacher è stato portato in giro su un'auto Mercedes AMG. Lo scopo era quello di stimolare il cervello con suoni familiari, visto che il sette volte campione del mondo ha trascorso oltre due decenni a correre sia in Formula 1 che in altre categorie prima del suo debutto nella classe regina al Gran Premio del Belgio del 1991 con la Jordan. In questi dieci anni del resto il pilota tedesco ha potuto accedere alle terapie più avanzate e nulla è stato lasciato intentato per cercare di migliorare le sue attuali condizioni. Secondo quanto spiega la Build, il team che lo segue 24 ore al giorno nella sua villa di Glend, sul lago di Ginevra, è composto da 15 persone tra medici, massaggiatori e assistenti. Meglio di così, insomma, allo stato delle conoscenze mediche nell'anno 2023, Schumacher non potrebbe essere curato, circondato al contempo dall'amore incondizionato di Corinna e dei due figli Mick e Gina Maria.